Sono molto contento per questa occasione, spero che faccia sempre bene. Il mio ruolo è la seconda punta, ma posso giocare anche come attaccante. Spero che faccia bene questi anni in San Lentano e in futuro. Spero che facciamo un bello campionato. Sto molto bene, sono da primo giorno, sto imparando ogni giorno più. Sto imparando di altri giocatori, anche di Donnarumma e Massimo Koda. Mi aiutano tanto. Bene, tutto bene. Sono contento. Seconda punta ho attaccante. Non cambia niente per me. Posso giocare questi due ruoli. Se devo giocare un altro ruolo, esterno, posso giocare anche esterno.